ah perché non parte ok che comunque assurdo come si è comportato ma poi tipo ho scartato anche cinico non so quanta stagna mi era rimasta quando ti ho preso la palla tipo c'evo pochissima stagna non so come ho fatto a scartare anche di un pochissima stamina si è fatto a scartare anche gin gin si si ma dico non non ho ne idea che cazzo non c'è ma che sarebbe un altro con cui gioco a subasa che alla ps 5 aspetta scusami ma c'ha anche il diciamo il il party con quello di cui può parlare come un amico che gli vogliamo di che insieme l'idea la protezione 5 partiti no più che altro perché io pensavo una cosa allora io vorrei capire se si vede effettivamente a 60 fps su basso poi non tornerà a giocare glielo chiedi madonna ragazzi che non gioco riguardo ai giorni li devo ricomprare oppure no 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 che ti voglio il gioco a dischetto e dei giochi in digitale vanno bene cioè posso giocarci lo stesso che è successo scusa aspetta ma un po' finito passarlo poteva per l'attore maria vai corri corri ma che è sta roba Ah ok no Eh non è prima cosa che mi succede A me si No dai Ok basta Tirate via il coglione La cosa di Spadas A centrocampo non me la spiego Cazzo Non è che non ti ho messo a gioco qua Non so se hai presente Di coso Di Müller A centrocampo Vabbè si quello che ti ho fatto ieri Vabbè l'altro giorno Merda questa è brutta Oh E vabbè Non ti hanno fatto niente Ma che cazzo Cocoda Ma trattieni Cristo santo Niente Oddio Non è riuscito a trattare No Non è riuscito a tenere anche un pallone Sto coglione Allora io vorrei Intanto fare la v-zone Eh vabbè Niente Riesco ad essere talmente stupido Stavo manco là Eh vabbè Questa la vedo un po' brutta E invece Non toccarla a Tsubasa che sei in fuorigioco Eh niente Il portiere è stato bombardato a sto giro Peccato Ma c'è lo svantaggio di avere Come? C'è tipo tipo Tsubasa rifrizzato Bellissimo Frozen Tsubasa Ma che è successo? Cos'è successo? A Sengo? E io ho visto tipo un Beyblade Ma se proprio tipo Fermalo Guarda no guarda guarda Non so pagato Bellissimo Merda Ma dai ma dai Ok Ok No 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 Diatsukun Il diatsukun madonna No Cosa sta succedendo? Io vedo tutto laggare male Non lo prende No L'hai morto No Non ho avuto tempo proprio di muoverlo Allora io quando corro E sto di spalle come fa lui Il suo difensore Anche se non ci sono in traiettoria Mi prende lo stesso Io lo trancio i piedi Diventa Casper Casper Minchia che fin di merda No ma vaffanculo dai È uscito fuori Quanto si può essere Bello il suo passaggio Non c'è neanche la difesa Non esiste Dai che forse Se occuro No Comunque bella la mozza Morisaki Mito Vabbè Non mi ha fatto Fare un cazzo Ora flasha Io prendo la Ti giuro Prendo la PS4 La butto al balcone Vabbè Poi la scusa E mi prendo la PS5 E ne ho fatto No ok vabbè Non ha flashato però Però Quasi quasi Però Però No Comunque non me la dare più là Perché sto qui Fa le seghe Ogni volta Cazzo guarda là Eh ma io per forza l'Ital la devo dare mi sa Vai 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 Ok Passa l'avanti a Yuka 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 Ah quasi Vabbè Niente Vabbè Ok Dai ma che palle Ah Mi stupro Mi stupro Non ci credo Mi passa Dai ma mi giro però Ma cazzo C'è qualcosa di nuovo Oh Vabbè Vai Vai Cian No È spada del cazzo 3 euro Sì 3 euro Ocultati nel cesso Sai che ti comincia a mettere Gino Sai Ma non è una Bassa Porco dio No Ok allora Allora se la passi a Pierre Esatto Perfetto Io provo a rifare la v-zone Niente Eh vabbè Se io c'è stasso dietro Fa la Il dribbling E gli spinta davanti Niente E poi Chiaramente Lui non trattiene Perché non gli piace La palla Sicuramente la palla Non gli piace Ma il cazzo Minchia ne va ghiotto Come se fossero Merendine Ti giuro No cazzo No 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 ma Cristo Hai vuto Vai ma l'ha toccata No problem Facciamo così Fischi arbitro Dai R1 Che non vale a un cazzo Sto R1 di merda Uno No Vabbè Alberto Non Non fa tirare Chiamo Gino No 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 Niente Gino Nane Cazzo Vabbè E' spada Del cazzo Spero ti Spero ti muoia Il papà di tumore Non lo so Qualcosa No Paolo Già 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 hai visto Visto che ha fatto Sì ma Cioè Tutto buggato Godwin No Tra l'altro Non mi fa prendere Possesso Dei giocatori Eh Perché Non prendere Non lo apriamo mai L1 Io faccio Farà l'uva Proprio perché Si Cazzo 3 a 0 Ebbene Questa si recupera Salvo come ti si sente A perdere due partite di fila Quasi Adesso non coglione Pensavo fosse nulla Ora l'ho ucciso Guarda qua Guarda qua Guarda sì ma infatti Io provavo a prendere Cioè a premere R2 Ma 0 No A me controlla il giocatore A noi in avanti Vado all'indietro Corro avanti Rimane sempre fermo in avanti No Dopo un sacco di tempo Va Vado lì Ora ti faccio vedere Quanto Quanto è tryharder Lui Chi io? No 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 Parlavo di Ah ok No ma che Che Yuga sta dietro Allora No Ok Coglione scarso di merda Porco dio Che palle Cazzo Non lo fa niente Non lo fa niente No perché Che vabbè Ma no Ma io spero veramente Che gli muoia la mamma Cioè no Il portiere di merda Oh non me la fa Ma non solo hai spada Sa tutti i messicani Dovrebbe morire la mamma Vabbè No Ma cosa Boh vabbè Stotta Stotta Vabbè dai Va bene Flasho lo sto portiere di merda Cristo santo Vabbè Ti è ripenuto No quadrato Quadrato Dovete Tiene ripenuto Ah ok Vabbè Allora ogni tanto Che non Non tira Non fa un cazzo Sto gioco di merda È morto No Merda Ma perché non mi viene attubato vicino Vabbè Tranquilo L'hanno sparsa Questa Ma ora l'ho fatto Sto fai Ragazzi Sto bloccato Non si capisce Un cazzo Bella Il gioco Che ci Sti bug Cap Cap Captain's bug Ma Vaffa No Ragazzi Ma Olaga E quindi Ci fa le cose Dopo Ma non Penso Boh Io non ce ne sto capendo Un cazzo De niente De niente Minchia Io giuro Veramente Appena incontro un messicano Gli do uno schiaffo Cazzo Oh coglione Boom Sì esatto Why my friend Why my amigo Non ci credo Vabbè Questo Mi sa che No Miracle bound Però Potrebbe entrare lo stesso In effetti Considerando che è spadas Attenzione E questo I giri più improbabili Li para E giri stupidi Li Si fatti E vabbè Dai cazzo No Ma Che è successo Non lo so Tanto ho messo a gioco Qua Non c'è niente da Nascondere Ho messo a gioco Cioè Più bugatti Di certi altri giochi Ma che è successo Mi fa vedere Che ce l'avevo io Ma ce l'avevamo noi Che sta succedendo Aiuto Allora aspetta Noi dobbiamo fare Una cosa Allora Scartane uno Niente Eh fra Il problema è che Lo premo pure R2 Eh lo ce l'ho visto L'ho visto L'entra mai No Aspetta Aspetta Ok No ragazzi Guarda qua Lo rimbiamuto Porco Dio Si comunque Credo che Non lo so Ci sarà O un problema Di lag Perché non è normale Si si È impossibile No Porco Dio Eh vabbè Madonna Guarda 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 qua No Guardalo Guarda Io so Correre L'unica cosa Che possiamo provare È questa No Salve dopo Può Tipo Parti Potendo La stanza Ma Ma Cosa Con R1 Ci sono andato Non cambia niente Perché se è lagga Lagga Ma comunque Proviamo Forse sono io Che c'ho la passione Di merda Che anche da ieri Vabbè Però per esempio Rispetto a ieri Ti sento bene Vabbè Sì Però magari Forse perché piove Ma No proviamo Poi farla Tu salgo Ma che cazzo Ci posso provare Niente Non riesco Non meno a tirare più Rifferoni Ah Bunnacchio E via Aiuto Mi stupra Bunnacchio Bunnacchio BOOM No No Sessione Può essere Che qualche volta Facendo sto La parata speciale Chiamavalo così Può essere Che ci muore In quel palo di merde Vabbè Anche Murisaki Ci prenderà Un braccio Prima o poi Sì Murisaki Murisaki No Nanni Minchia Assaggia proprio Il cazzo Di Zubasa Eh ma porca Negro di merda Immigrato Di sto cazzo No 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 Nice pure Dove Dove Che partita Mai è finita Lo so però Boom No No ma vaffanculo Che cagasotto Ma stai zitto Che per una volta che sto vincendo Ma che cazzo Sono un piccoglione Che cazzo Non cazzo Non cazzo Non cazzo Non cazzo Non cazzo Mi sa che devo andare a mangiare tra poco Ma come alle 7? Ma sei proprio un po' lentone Non cazzo In questi giorni mangiamo troppo presto Non so Bisogna Già di qualche alle 8 Non so perché Mi ha senso che dopo tipo Una partita che devo staccare Io vi saluto E magari tipo ci sentiamo un altro giorno Aspetta scusami Un'ultima te la fai? No Ah no ho già stato